Signori, nuova challenge non più su Fortnite oggi, bensì su Rainbow Six Siege. Challenge semplice semplice, se muoio il video finisce. Incrociamo le dita come sempre e speriamo di portarcela a casa. Che ne sapete, magari ci vinciamo la partita senza mai morire. Oh, finalmente Fiji ha messo un botto a trovarmi la partita, cioè ha avuto il tempo di fare un figlio e farlo laureare Fiji. Ai cazzo. Tra l'altro siamo anche Yacht, figata, che non ci giocavo da un botto in Yacht. Bello, mi piace. Vai, abbiamo anche un team in squadra, non può andare male, non può andare male. Dai eh, belli carichi, fatemi da scudo, non mi fate morire, abbiamo anche montagne signori. Vai, vado dietro le montagne, è fatta, è fatta. Allora, ce ne passiamo da sopra tranquillamente, sperando di non venire sponchillati come degli animali. Signori, stiamo già praticamente dentro, di cattiveria e arroganza, vediamo di non morire subito. Ah, sta mappa me la ricordo, ma relativamente, diciamo. Bravo team. Allora, come stanno facendo tutto loro? Vabbè, niente, lo ha fatto in tutto voi, ditelo. No, vi è legion. Voglio subire neanche un danno. Vabbè, è vinta, è vinta. Ok, è il primo round, senza morire, non abbiamo fatto... Salve. Non abbiamo fatto niente praticamente, in caso buono, una vittoria, senza morire. La challenge può proseguire. Io direi di prenderci... Zofia. Così, se andiamo a terra, possiamo risollevarci con l'abilità. Perfetto. No, mi vogliono espellere. No, amici. No, amici. Per ora mi han tenuto, uno mi ha salvato. Dai, che cazzo è? Cosa volevate fare? No, amici, ma perché... No, 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 no. Mi buttano fuori questi, sono dei pazzi. No, vi prego, non avrò... Sono triggeratissimo. Perché mi han buttato fuori? Non ho fatto niente di male. Me ne vado. Me ne vado. Mi costringono ad andarmene. No, 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 no.